Un eccesso colposo di legittima difesa per questo Sandro Mugnai, secondo la PM Laura Taddei, dovrebbe andare a processo. È questa la conclusione della procura di Arezzo al termine delle indagini sulla morte del 59enne albanese che a San Polo, alle porte di Arezzo, appunto, venne ucciso da Mugnai. Era l'ora di cena, Mugnai si trovava in casa con la moglie, un figlio e altri parenti. All'improvviso la casa iniziò a tremare sotto i colpi di un mezzo da lavoro. Mugnai, accortosi che il 59enne stava colpendo la sua abitazione con una ruspa, uscì di casa armato con una carabina regolarmente detenuta e fece fuoco. Prima un colpo in aria, poi quattro diretti verso l'uomo che era alla guida dell'escavatore, uccidendolo. Venne arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio volontario, fu però scarcerato perché il GIP Giulia Soldini reputò credibile la versione dei legali di Mugnai che sostenevano la tesi della legittima difesa. Adesso, a distanza di oltre un anno dall'accaduto, arriva l'avviso di chiusura indagini della Procura che potrebbe aprire le porte al rinvio a giudizio.